Allora, è successo che sono tornata a casa come sempre e mi sono accorta che la porta era non inchiavata, chiusa ma non inchiavata e poi effettivamente ho constatato che c'erano delle cose un po' anomali dentro l'abitazione come delle porti aperte, una luce accesa e poi effettivamente ho visto che la chiusura della porta era stata sforzata, spinta dall'esterno e non so per quale motivo o per fortuna o per sfortuna però non mi è stato rubato tanto se non documenti, passaporti e assegni insomma ho fatto denuncia, ho avvertito la polizia però è una cosa molto spiacevole Trovarsi in casa, insomma qualcuno Sì, ecco esatto, quando sai che qualcuno è stato dentro casa tua non è piacevole per niente Hanno preso il primo borsello che hanno trovato Sì, hanno trovato un borsello, poi questi giorni mi è servito per diversi motivi quindi era in giro diciamo per casa, sicuramente è stata la prima cosa che hanno trovato se ne sono impossessati e spero tanto che vengano ritrovati perché da come ho letto di 3 e 2 sono stati poi arrestati quindi speriamo bene